Siamo in chiusura, vi lascio alla contro copertina dedicata all'ottava edizione di Matti per il calcio, manifestazione WISP dedicata a sportivi con disagio mentale. Buona serata. Quanto il calcio vi aiuta? Ci aiuta moltissimo in quanto è uno sport di gruppo e quindi fa praticamente amalgamare una squadra di calcio, fa amalgamare delle persone. Il calcio per combattere il disagio mentale non è uno slogan ma una vera e propria realtà. Con il calcio magari meno farmaci da prendere? Sicuramente, sì, sicuramente. Dovevo essere un'aspettatrice ma mi hanno messo una giocatrice così a ruolo mio, volontaria, perché mi piace giocare, mi piace lo sport. Sportatore. Noi abbiamo storie sempre di ragazzi che facevano parte, sono entrati in antenna associazione come pazienti ed ora sono diventati gli allenatori di questo gruppo sportivo, di questa fuori sportiva. Sono loro che organizzano, quindi questi ragazzi tutte le volte che ci vedono ci ringraziano. Si può vincere dalla malattia mentale, si può sconfiggere dalla malattia mentale se si è predisposti e se si ha volontà e se si ha pure un po' di fortuna.